passi in avvicinamento andate alla zona sicura recuperiamo un po' di equipazzamento no, stronti un tratto sciacallo marcato mannaggia si ribocca attenzione, un team nemico vi sta dando la caccia fuoco autorizzato su tutti i bersagli via, via, scappa ora faccio prima così, guarda avviste 100 e 1, via mi hanno colpito, mi hanno colpito compagno finito nel gulag chi sopravvive lì, torna in prima linea ahhh 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 bier d il compagno ritorna ahhh marco una mitragliatrice leggera che sei forte nemico qui ecco lì ci resti solo tu, fassi valere! esatto! esatto! no, sono in due! vai dentro al bunker, vai dentro al bunker, sennò ti prendi un po' di più, un po' di più! avete evitato l'insettimento, ottimo lavoro! arriva il gasco! cos'esco cattivi utenti? Grazie a tutti. Sicuro. 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 Basta, spegnere qui! Dov'è sta p***a? No, ma non è molto male, però... Il prossimo seguito, preparati! Se vinci questo scontro, torni in prima linea. Se perdi, è finita. Guadagna sulla libertà, soldato. Sì, è finito male. Rientrerai alla base. Stavolta abbiamo perso. Ci rifaremo alla prossima. Buona. Dai, Fabrizio. Buona, ragazzi. Stai partito da cinque minuti. Sì, sì. Sì, sì. Cinque minuti. Vado là! Va bene. Oh, vabbè, caccia via.